L'evento era atteso, come si attende ogni nuova nata. A Lecce è stata la concessionaria CanMercedes a riservare alla nuova classe A una serata davvero speciale. E che ha atteso tanto per poterla ammirare da vicino è senz'altro rimasto soddisfatto. Il debutto leccese ha superato ogni aspettativa. Un'auto completamente nuova nei minimi dettagli. Evidente la rinuncia alla vecchia veste d'auto familiare che oggi indossa con personalità. Un abito che le calza perfettamente, dinamico e sportivo. Una piccola rivoluzione di stile e di innovazione. Mercedes ha voluto dare un segnale a tutti i giovani facendo questa presentazione nelle 51 concessionarie d'Italia, allestendole tipo discoteca proprio per dare un segnale ai giovani e dire la nuova classe A ha un target giovanile. Un vero e proprio gioiello che ha fatto brillare gli occhi a tutti gli invitati al party. L'evento dedicato alla presentazione del nuovo look della Mercedes classe A in contemporanea in 51 città d'Italia, da oggi acquistabile nelle concessionarie, è stato un successo. Design e dinamismo, le caratteristiche che identificano fin da subito la nuova classe A 20 centimetri più bassa rispetto al modello precedente. Un impatto estetico di grande prestigio che non ha precedenti nel segmento delle compatte grazie al linguaggio formale, la scelta dei materiali pregiati e di tanti possibili abbinamenti. Puntiamo molto su questa vettura che va ad occupare un segmento, è rivolto più che altro a un segmento molto giovanile. Penso che siamo riusciti ad attirare un po' l'attenzione, soprattutto in questo settore che oggi è un po' in sofferenza. Tra brindisi e sorrisi, la vera protagonista ha dominato la scena. Grazie a tutti!